Dispiace perché io questo video l'avevo già registrato ma a quanto pare non si è salvato niente e quindi devo registrarlo per una seconda volta, la prima volta era venuto di circa 20 minuti, cerchiamo di essere un po' più riassuntivi però ci sono tante cose da dire e forse sono stato anche un po' troppo avventato nel dire che non mi aspettavo grossi cambi in difesa per la Sampdoria e infatti ecco qua un piccolo affaticamento per Bonucci che molto probabilmente lo costringerà a saltare la trasferta e adesso c'è il ballottaggio Gatti-Rugani, vediamo chi giocherà, io spero Gatti ma la paura di Rugani è sempre dietro l'angolo, tra l'altro Rugani che era stato cercato dalla Sampdoria, vediamo se si concluderà qualcosa ma ormai credo che meno male questo sarà il reparto difensore della Juventus e secondo me c'è da ragionarci attentamente sotto il profilo della qualità e a proposito dei difensori sto leggendo di un TT dal Barcellona a Lecce quindi veramente vabbè stiamo parlando di cose un po' allucinanti oggi cerchiamo di fare un approfondimento su una delle tematiche più discusse degli ultimi anni e cioè gli infortuni per quanto riguarda la Juventus ma cercheremo di andare nel dettaglio, non voglio fare la classica discussione a bar anche perché mentre creavo le slide io stesso ho avuto modo di ricredermi su alcune cose che secondo me erano vere e che poi si sono rivelate false quindi cercheremo di fare un confronto con gli anni precedenti con le altre squadre in Serie A e cercheremo di capire se effettivamente la Juventus ha dei problemi legati agli infortuni è un problema? è colpa di Allegri? è colpa del suo staff? con altri allenatori avveniva la stessa cosa? è un viaggio incredibile che nasce da un mio tweet di ieri sera in cui dicevo nella mia ignoranza penso che ben tre infortuni muscolari quindi Scesni, Bonucci e Di Maria dopo una sola partita di campionato siano decisamente troppi nonostante la preparazione che potrebbe dare qualche problemino no? chiedo quindi a chi se ne intende siamo oltre la media? e poi qua c'è la tabella degli infortunati della Juventus attuali la riprenderemo dopo prima ce la fare alcune considerazioni perché? perché ieri sera mi ha risposto Mimmo Chelsea affaticamento e infortunio sono due cose diverse il primo nasce da sovraccarico funzionale genera durezza o senso di pesantezza sulla zona sovraccarica quindi l'affaticamento il secondo invece si riferisce a micro lesioni o lesioni più importanti o stati specifici infiammatori gravi il problema semmai è che tutti stanno riscontrando problematiche simili dovute a partite con temperature ancora elevate siamo a metà agosto fine agosto è preparazione mirata al breve periodo per mandare al mondiale a novembre semmai ci sarebbe da fare una discussione sul perché questo avviene Mimmo è un preparatore atletico della primavera della Paganese di Lega Pro è quindi una persona che sa di cosa sta parlando lo ringrazio per avermi risposto e dato questa delucidazione soprattutto aver differenziato l'affaticamento all'infortunio e quindi andiamo avanti con altri commenti che sono interessanti come quello di Dipo che dice credo che un dato da considerare è che siano tutti giocatori over 32 detto questo anche le altre squadre giocano con calciatori di questa età e quindi questa cosa mi fa pensare molto Alessandro invece dice il problema non è tanto il numero quanto la modalità Di Maria non aveva un infortunio muscolare dal 2017 e si è lesionato stoppando un pallone sono andato a controllare in realtà non aveva problemi dagli adottori dal 2016 è un problema muscolare l'ultimo problema muscolare vero ce l'ha avuto nel 2017 se escludiamo il problema alla coscia che comunque si è portato dietro anche nelle passate stagioni comunque si Di Maria è un giocatore che agli adottori o agli muscoli aveva problema da quasi 5 anni 5-6 anni e da noi la prima partita invece subito tac micro lesione quindi già questo potrebbe essere un piccolo campanello d'allarme ma andiamo avanti nell'analisi perché Gianluca arriva e mi risponde su Transfermarket trovi la situazione completa per ogni giocatore Antonio Corsa invece aveva pubblicato un interessante articolo sull'argomento sulle stagioni precedenti con tabelle Excel incluse questo è il logo di Antonio Corsa del suo sito e la sua premessa è stata interessante mi sono permesso di estrapolare alcuni pezzi del suo articolo che trovate comunque linkato qui sotto nella descrizione in maniera integrale quindi lo potete prendere e leggere anzi vi lo consiglio perché ovviamente io sto usando del materiale che ha creato lui e gli ci ha voluto sicuramente tanto tanto tempo per creare un articolo di un certo livello quindi vi invito assolutamente a passare se stiamo facendo questo video e soprattutto grazie a lui perché certe informazioni su internet non sono facili da trovare, da reperire ci sono tanti siti che magari fanno molto clickbait invece lui è stato preciso con delle tabelle che poi vedremo e dice questo non è un articolo che vuole essere contro qualcuno e gli rubo le parole, questo non è un video contro Folletti, contro Allegri, contro i preparatori atletici nessuno vuole insegnare il mestiere a nessuno io non ho una formazione medica, non ho una formazione da preparatore atletico di nessun tipo non ho formazione di questo tipo io sono laureato in informatica, stiamo parlando di atleti, di uomini, contro macchine quindi sono le cose più agli antipodi possibili non voglio assolutamente insegnare, non voglio puntare il dito voglio solo riportare i dati come sono poi ognuno sarà libero di farsi la sua idea di fronte a quello che vedremo in questo fantastico viaggio di video legato agli infortuni e quindi Allegri 2018-2019 questa è una tabella creata da Antonio 105 infortuni muscolari, che cosa significa? sono le partite in totale saltati da tutti i giocatori della Rosa nell'annata 2018-2019 legate ai infortuni muscolari quindi 22 partite saltate da Barzagli per problemi muscolari 20 partite saltate da Costa per problemi muscolari così via Manzucic 14, Ciro 10, bla 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 193 infortuni complessivi stessa cosa quindi Barzagli, che vediamo, ne saltate 22 muscolari e 22 totali per dire Costa ne saltate 20 per problemi muscolari e 25 totali magari un infortunio traumatico che gli ha tolto 5 partite quindi sappiamo che 193 sono le assenze complessive della Rosa 105 l'assenze complessive della Rosa per fastidi muscolari quindi il 54% delle assenze della stagione 18-19 dovute ai infortuni muscolari 51 partite disputate 2.06 è il rapporto tra gli infortuni muscolari e le partite giocate quindi in questo caso 105 su 51 che non è esattamente infortuni muscolari a partita ma è la cosa che in italiano si avvicina di più alla definizione ora che abbiamo bene o male inquadrato quelli che sono i dati andiamo a confrontarli con quelli di Sarri della stagione successiva parliamo di 96 infortuni muscolari 25 deciglio, 21 costa, bla 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 183 infortuni complessivi quindi il 52% dei problemi degli infortuni sono i problemi muscolari 52 partite totali 1.85 è il rapporto di cui parlavamo prima come possiamo vedere poi li rivedremo tutti insieme Sarri, Allegri, l'ultimo Allegri e Sarri sono numeri abbastanza simili veniamo a Pirlo perché qua c'è la mia prima grande sorpresa io nella mia testa avevo in mente una stagione molto travagliata per quanto riguardava gli infortuni quella di Pirlo invece vediamo che sono soltanto 69 le partite saltate per infortuni muscolari 17 da Chiellini 13 di Mirau 126 infortuni complessivi quindi il 55% muscolari che la percentuale è simile a quella di Sarri e Allegri che abbiamo visto adesso però il numero totale è nettamente minore soprattutto di quelli muscolari 52 partite totali 1.33 il rapporto vedremo perché questa cosa passiamo adesso a un dato eclatante cioè quello di Allegri dalla passata stagione tra l'altro non è meno completa stiamo parlando di 37 partite perché Antonio ha iniziato a calcolare queste cose a metà stagione l'anno scorso credo dopo l'andata degli ottavi di finale col Villareal e abbiamo dei numeri clamorosi fino ad adesso abbiamo analizzato 51 o 52 partite ora 37 e stiamo parlando di 97 infortuni muscolari 15 Ramsey 11 Danilo bla 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 135 infortuni complessivi il 72% muscolari 37 partite soltanto 37 e 2.62 il rapporto tra infortuni muscolari e partite stiamo parlando di numeri clamorosi della passata stagione clamorosi poi qualcuno qua potrebbe dire sì certo però 15 le assaltate Ramsey 10 le assaltate Chiellini 9 le assaltate Di Bala 9 le assaltate Bernardeschi non ci sono più questi giocatori nella Juventus quindi questo dato si abbasserà ed è vero perché alcuni calciatori li abbiamo visti tante volte protagonisti di stop per quanto riguarda problemi muscolari come Chiellini come Di Bala come Ramsey stesso Douglas Costa abbiamo visto sono giocatori che tante volte hanno avuto dei problemi però non è solo legato alla condizione fisica di questi giocatori l'abbiamo visto prima no? Di Maria per dire che non aveva problemi muscolari da anni ora subito lo ha avuto quindi sì la condizione atletica dei calciatori ma anche la gestione che viene fatta dei calciatori da parte dei preparatori atletici che è lo staff scelto dall'allenatore meno male ogni allenatore ha il suo staff e quindi ogni allenatore è responsabile di quelli che sono gli uomini che vengono scelti andiamo a vedere chi sono questi uomini quindi preparatori atletici perché Allegri ha sempre avuto folletti 193 infortuni totali nel 18-19 di cui 105 muscolari 54% 51 partite 2.6 quel famoso rapporto Sarri e a Tognaccini nel 19-20 183 infortuni totali 96 muscolari 52% 52 partite 1.85 di rapporto numeri simili Allegri Sarri poi c'è Pirlo che è una specie di mosca bianca 126 infortuni totali 69 muscolari 55% 52 partite 1.33 veramente un dato clamorosamente basso o comunque interessante e poi c'è un dato clamorosamente alto invece è tutt'altro che interessante che quello di Allegri in 37 partite quindi mancava ancora circa un quarto di stagione Allegri l'anno scorso Folletti l'anno scorso 21-22 135 infortuni totali 97 muscolari che bene o male è superiore addirittura al numero che aveva avuto Sarri in un'intera stagione 72% di problemi muscolari 37 partite 2.62 infortuni muscolari a partita poi che sia clamorosamente alto perché Ramsey Di Bala Chiellini Bernardeschi e sono tutti giocatori su cui la Juventus avrà fatto delle riflessioni anche dal punto di vista atletico dal punto di vista dell'integrità fisica sono partiti e quindi non mi aspetto dei numeri così alti come l'anno scorso perché l'anno scorso veramente abbiamo toccato l'apice probabilmente non abbiamo nemmeno i dati completi mi dispiace ma Antonio non ha completato la stagione però basti pensare che in queste 37 partite non mi pare che sul finale di stagione sia andato tanto meglio anzi in un certo punto ci erano ritrovati senza centrocampisti senza giocatori quindi è stato sempre un po' una roba così è vero che alcuni giocatori sono andati via però è vero che non dobbiamo sottovalutare il fatto che c'è già stato un piccolo campanello all'armi quindi una partita e già tre infortuni muscolari che sono diversi da quelli traumatici ma rivedremo la tabella tra poco c'è da fare delle riflessioni però perché per esempio i 193 infortuni totali di Allegri sono diversi dai 105 muscolari perché perché per dire Allegri aveva a quadrado e che di route per problemi non muscolari per tante partite e quindi quello è un problema che ci puoi far poco così come Sarri ha avuto Chiellini che si è fatto il crociato e quel 183 quel 183 è molto alto magari perché Chiellini è stato fuori tante partite quindi non dobbiamo focalizzarci tanto sul numero totale di partite saltate quanto più sul numero totale di partite saltate per infortuni o fastidi muscolari ho detto infortuni o fastidi quindi infortuni affaticamenti ma ci torneremo ancora sopra così come Allegri ha avuto tanti 135 infortuni totali e ne mancavano ancora tanti altri ogni giornata è aumentato di due perché Chiesa e Caio erano comunque sempre fuori per via del ginocchio e Pirlo ha avuto fuori Di Bala per tante partite per il collaterale infatti io sono rimasto stupito io mi ricordavo una stagione di Pirlo con tantissimi tantissimi giocatori che avevano saltato delle partite e invece non è vero perché sono solo 126 e quindi magari la sensazione era dentro la stagione di averne tanti ma rapportato con le altre stagioni non è stato così e avevo in mente anche Di Bala che saltava tantissime partite per via di problemi muscolari quando in realtà credo ne abbia saltate due se ben ricordo avendo visto la tabella ma ha saltato qualcosa come una ventina trentina di partite in totale 20-25 non so non mi ricordo neanche di qui forse 18-20 soltanto per un problema collaterale del ginocchio che non è un infortunio muscolare è un infortunio che viene considerato traumatico differente poi ovvio il giocatore l'ha saltata comunque però a livello di preparazione atletica puoi considerare è più facile riuscire a evitare un infortunio muscolare piuttosto che uno legato ad altre cose ribadisco la Juventus avrà fatto le valutazioni in fase di rinnovo contratti dei vari calciatori però la stagione di Pirlo nella mia testa era decisamente diversa da come è stata e la stagione dell'anno scorso invece no mi sembrava decisamente sopra la media e invece quella di Sarri e l'ultima di Allegri mi sembravano simili e quindi lì c'ero però anche Pirlo l'avrei messo molto più vicino ad Allegri Sarri piuttosto che l'Allegri dell'anno scorso e questo è vero però Pirlo si discosta tanto in realtà poi noi parliamo Pirlo Allegri sarebbe più doveroso parlare dello staff che scelgono gli allenatori di cui sono responsabili quindi Folletti Tognacini Bertelli ok questi sono i tre capi della preparazione atletica queste sono le riflessioni che potevamo fare il riassunto completo andiamo avanti perché ritroviamo la tabella che abbiamo visto poco fa e notiamo una cosa interessante dopo tutto quello che abbiamo detto fino adesso affaticamento in Vortunio sono sì due cose diverse a livello medico però perché a livello sportivo sono comunque partite che un atleta salta per un'indispuribilità legata al muscolo su questo non ci piove sarà interessante controllare quindi Kostic e se arriveranno a Paredes e Depay che tipo di lavoro hanno fatto diverso in Germania in Francia in Spagna con le rispettive squadre precedenti per capire una cosa vanno di più sono più resistenti agli infortuni io ricordo Morata il primo Morata arrivato con Pirlo che aveva fatto una piccola parte di preparazione atletica perché non dimentichiamoci che Pirlo si ha avuto meno infortuni torniamo un attimo su questa slide ha avuto sì meno infortuni ma è anche la stagione in cui non si è fatta praticamente quindi Sarri ha avuto da febbraio marzo in poi il blocco per via del covid quindi poi c'è stata un'altra preparazione si è giocato fino a luglio agosto e si è ricominciato a settembre con Pirlo che ha fatto una preparazione differente molto più piccola non ci sono stati amichevoli ricorderete invece quest'anno abbiamo fatto un tour siamo andati in giro per il mondo dovevamo addirittura andare a Tel Aviv meno male che non ci siamo andati tutti questi viaggi Pirlo ha avuto meno infortuni magari è stato più bravo Bertelli magari è stato più bravo Pirlo quello che volete però è curioso vedere che l'anno in cui si è lavorato meno ci sono stati anche meno infortuni che mi sembra una cosa logica ma anche anti-intuitiva nel senso lavori meno quindi è più facile farti meno male però se lavori meno forse sei meno pronto atleticamente quindi sei più inclino all'infortunio allora vi chiedo qual è la lettura corretta di questa cosa poi magari non c'entra niente magari è una coincidenza ci sta benissimo però io mi ricordo quel Morata arrivato dall'atletico aveva fatto probabilmente una preparazione differente una cena di preparazione differente andava molto più forte quindi vediamo Kostic e Depay come si comporteranno più che altro notiamo che gli under 30 della Juventus quindi Chiesa Caio Ache e Pogba sono tutti infortuni traumatici mentre tutti gli over 30 della Juventus Scesni di Maria Bonucci sono tutti infortuni o affaticamenti a livello muscolare e quindi mi viene da dire non è che serve un lavoro personalizzato a seconda del calciatore per dire Bonucci stiamo iniziando a vedere che non è più Bonucci che ti faceva 38 partite in campionato era una volta ora 35 anni e va gestito va dosato in maniera differente e qui torna fuori il discorso che secondo me il pacchetto di retroguardi della Juventus non è creato proprio per essere di super livello però lì sono considerazioni personali e l'altro giorno parlavo di lavoro personalizzato per Di Maria perché si aveva già avuto un problema agli aduttori come confermato da Allegri perché costringerlo a rimanere in campo anche dopo il 3-0 e non toglierlo prima se si sapeva che aveva un problema agli aduttori o perché non preservarlo trattamento personalizzato per il calciatore e mi ha risposto Salvatore e mi ha detto hai parlato di carico di lavoro personalizzato e hai centrato perfettamente la tematica non medicina non fisioterapia ma semplicemente scienze motorie che ha studiato lui e mi dice tanti infortuni sono sintomi di creativa preparazione a livello atletico troppa enfasi su cose inutili funzionali troppo carico aerobico e poco equilibrio sul lavoro muscolare a questi livelli sinceramente non mi capacito di come sia possibile io non voglio entrare nella discussione successiva perché Salvatore che ha studiato queste cose può saperne sicuramente di più io non sono qui a dire che Folletti non capisce niente perché la preparazione l'ha fatta male perché io non ho idea di chi sia Folletti come lavori Folletti che preparazione abbia fatto quale tipo di preparazione serve fare per un calciatore se hanno fatto una preparazione per essere in forma subito se l'hanno fatta per essere in forma a settembre ottobre novembre dopo il mondiale a gennaio febbraio a marzo non ne ho la più pallida idea non ne ho la competenza e non lo so semplicemente io fino adesso vi ho riportato dei dati sto facendo delle considerazioni che sono oggettive e poi vi darò la mia opinione soggettiva alla fine del video che rimane la mia opinione soggettiva e i dati rimangono oggettivi e sono due cose diverse poi ognuno ha diritto ad avere la sua opinione e sempre in articolo di Antonio avevamo questo grafico preso da Radio Rosso Nera che ha utilizzato forse delle definizioni differenti per il calcolo di infortuni visto che i conti muscolari con la Juve non tornano il grafico fa riferimento alla stagione scorsa e tra l'altro non concluso eravamo in corso però vediamo che il Milan è la squadra che ha avuto più infortuni in serie a livello muscolare e comunque hanno vinto lo scudetto quindi quando sento che la Juve non può competere per lo scudetto perché ha troppi infortunati sicuramente non è una cosa positiva sicuramente è una cosa che danneggia la squadra ma il Milan comunque nonostante le tante assenze l'anno scorso ha vinto il campionato e l'ha vinto meritatamente e l'ha vinto senza avere nemmeno la rosa più pagato la rosa probabilmente più forte sulla carta sono due cose differenti si può vincere comunque si può essere più forti della sfortuna se vogliamo chiamarla sfortuna dell'incompetenza se vogliamo chiamarla in competenza o se vogliamo chiamarla col suo nome dei problemi muscolari perché questa è l'unica cosa certa poi che sia sfortuna in competenza ci sarà un tribunale di internet pronto a stabilire qual è la cosa giusta per me si chiamano infortuni proprio perché io non credo di avere i dati a disposizione per dire è colpa di Tizio Caio Sempronio però abbiamo visto i dati e i dati parlano chiaro che Folletti è stato quello che negli ultimi quattro anni senza considerare la stagione in essere è quello che ha procurato ai calciatori più infortuni muscolari poi c'è da sottolineare che ogni squadra è diversa perché la Juve l'ultima Juve di Allegri non è come la prima Juve di Allegri sono calciatori diversi come la Juve dell'anno scorso non è come il Milan sono calciatori diversi come gli stessi calciatori che aveva Allegri a disposizione l'ultimo anno e il primo anno sono calciatori diversi abbiamo visto prima Bonucci è un Bonucci diverso a livello fisico da quello di quattro anni prima perché è una persona perché invecchia perché probabilmente il fisico non è più lo stesso e quindi a maggior ragione mi viene da dire c'era fare un lavoro personalizzato differente però carta canta sotto il punto di vista muscolare Allegri e Folletti sono stati quelli che negli ultimi quattro anni hanno avuto la maggior mole di infortuni c'è poco da fare poi ribadisco ognuno ha la sua la sua opinione quindi per colpa di chi 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 era zucchero che cantava una canzone del genere vi metto la foto dello staff della Juventus e concludo con un'altra citazione di Antonio ancora una volta vi invito a andare a leggere l'articolo completo qui sotto nella discrezione perché dice che colpa e responsabilità sono due parole diverse io la colpa non ho idea di chi sia ve l'ho già detto ve l'ho già spiegato non ho le basi per dire una cosa del genere ma la responsabilità è assolutamente di Allegri e di Folletti Folletti perché è lui che decide la preparazione atletica è lui che gestisce i suoi uomini è lui che gestisce la parte di lavoro per la Juventus è di Allegri perché ha scelto Folletti come responsabile della gestione atletica della Juventus quindi colpa scegliete voi i dati indicano che sicuramente c'è una colpa maggiore di Folletti rispetto a Tognacini o a Bertelli Bertelli che ha lavorato meglio in assoluto di tutti a quanto pare poi ribadisco può essere coincidenza coincidenza quello che volete può essere coincidenza ogni stagione diversa ogni squadra diversa ogni gruppo diverso ogni allenatore diverso tutto diverso però i dati questi sono quindi responsabilità sicuramente colpe rispetto agli altri probabilmente delle colpe ci sono e credo che non ci sia niente di male a dire che in questo momento sì probabilmente alla Juve un problema infortuni c'è nella passata stagione è stato evidente e questa stagione è partita già con un campanello d'allarme che io inizierei a monitorare per evitare di arrivare a metà stagione con ancora numeri da record e ritrovarsi a giocare un ottavo se ci si arriverà perché non è detto di passare il giro ottavo di Champions League con ancora i classici Rugani di scelio titolare come era avvenuto con l'Ajax come è avvenuto l'anno scorso come avviene praticamente tutti gli anni quando arriviamo nel momento clou della stagione quando abbiamo un sacco di infortunati spero di aver toccato i tasti giusti vi invito a lasciare le vostre considerazioni qui sotto nei commenti scusate è venuto ancora una ventina di minuti ma è un contenuto abbastanza ciccione quindi vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto e vi ringrazio